Per la rubrica Io resto a casa voglio consigliarvi un film, si tratta di una pellicola del 2016 con Matt Damon, del grande regista cinese Zhang Yimou, e The Great Wall, la grande muraglia. L'opera in sé non è nulla di particolare, ma ci offre degli spunti di riflessione su un argomento cruciale oggi, ossia il soft power cinese. La produzione intera è uno dei primi sforzi del partito comunista cinese nell'industria hollywoodiana, ma ci sono all'interno tutti gli elementi che la Cina desidera rappresentare al di fuori dei propri confini. Matt Damon, insieme a un altro gruppo di mercenari, siamo intorno al 1500, arriva in Cina alla ricerca della polvere nera, ossia della polvere da sparo. La vuole portare in Europa per trarne profitto, una cosa che appare insensata, incredibile ai soldati cinesi che nella grande muraglia sono coinvolti in una difesa contro gli alieni. Quindi c'è questa idea di questa società assolutamente omogenea che si dedica alla difesa della terra senza chiedere nulla e lo fa esclusivamente per l'amor patio. Ci sono dei momenti quasi ridicoli in cui praticamente non c'è nessuna figura negativa all'interno delle file del soldato cinese e quindi manca anche quella dicotomia tra l'eroe e l'antagonista a cui siamo abituati sin dai romanzi classici. Però diciamo che un'analisi del film e della pellicola proprio attraverso questa cornice del soft power cinese rendono il film The Great Wall un ottimo oggetto di studio.